Aperta i piccoli risparmiatori la porta delle società per azioni. Anche chi dispone solo di qualche biglietto da mille può diventare azionista col semplice invio di un tagliando. Azionista per esempio di questa società che partecipa all'iniziativa da un mese. Abbiamo chiesto perciò al signor Carcano, vice direttore della rivista Quattro Soldi, che ha avuto la singolare trovata, quali sono i risultati ottenuti con l'operazione Tutti Azionisti. In quattro mesi siamo arrivati a una sottoscrizione complessiva di circa 2 miliardi. In uno dei prossimi numeri apriremo questa possibilità, cioè quella di acquistare titoli rumianca anche agli ex azionisti elettrici, invece che i quattrini verseranno azioni elettriche. Così la possibilità di questa permuta sarà offerta a tutti. Ogni volta che noi inseriamo una società nel nostro programma, non manchiamo di illustrare le vicende di questa società, quelli che sono i prodotti, la storia e di parlare in maniera abbastanza interessante anche di quelli che sono gli stabilimenti. Ogni risparmiatore dunque può comprare quanti titoli vuole, quando vuole e senza maggiorazione di prezzo. L'operazione che incoraggia e difende il risparmio sta avendo un successo considerevole. Pensate, per la società che vi partecipa da un mese, sono già state sottoscritte 46 mila azioni per 100 milioni. Grazie!